Ciao, sono Lucio Maurino e voglio condividere con te un'utile iniziativa in collaborazione con EducaGiudo indirizzata ai tanti genitori che ci seguono. Come genitore, sono consapevole che affrontare questo lungo periodo di quarantena in casa con il proprio partner, i figli o addirittura da solo senza poter uscire non è facile soprattutto dal punto di vista emotivo e psicologico. Tanti studi scientifici hanno dimostrato la validità di una breve routine quotidiana da fare al mattino appena svegli per affrontare la giornata con più positività partendo da semplici movimenti che vanno guidati dal respiro. Seguili e sarai testimone di cambiamenti incredibili.